salve a tutti oggi vi mostrerò le mie classi allora la prima classe si tratta del famas equipaggiato con il lancia granate e come secondaria lo striker il famas a mio avviso è un'arma molto buona poiché ha una raffica di tre colpi non come black ops che ha il fuoco a raffica avendo il fuoco di tre colpi è un'arma buona da da lunga distanza ma da distanza ravvicinata è un po svantaggiosa diciamo mentre a lunga distanza ha un rincuro anche molto basso quindi si riesce benissimo con con una raffichetta a uccidere un nemico poiché con tre colpi se lo beccate con tutti e tre in pieno sicuro che muore mentre come secondario scelto lo striker poiché è molto buono come fucile a pompa diciamo a ripetizione a molti colpi non è come lo spas che c'è da ricaricare ogni volta è molto comodo anche se si ammazza però nel senso ammazza non è un danno molto molto elevato come perk o bonus o gioco di prestigio potere d'arresto cioè che il danno da proiettile maggiore e mira stabile perché ho veramente una mira schifosa io mentre come ricompense e morti uccisioni o martirio cioè quando muoio ma non mi ammazzano io lascio una granata ho la mina clamor e due stordenti secondaria oltar 21 sempre con lancia granate secondaria tamper i bonus i perk scusate il gioco di prestigio sangue freddo non sono sono invisibile da uav e altra roba e dai supporti aerei per esempio mira stabile martirio la terza classe mi sembra l'ho rinominata ti faccio il culo scherzo perché i vector sono veramente buoni cioè mi piacciono molto a kimbo lo uso per le mappe molto piccole come secondaria sempre lo striker questa questa classe la uso per le mappe piccole i perk sono sempre gli stessi giocano il prestigio potere d'arresto minastabile martirio mina clamor e due ceccanti la quarta classe l mp5 con il silenziatore sempre lo striker i perk uguali mentre l'ultima ho il fall come primaria secondario il pp 2000 con il mirino laser il per gioco di prestigio potere d'arresto minastabile e martirio la mina clamor e sempre estordenti il pp 2000 hanno buona mitraglietta come secondaria mi sembra molto valida anche se dovrebbe essere usata a kimbo comunque io non l'ho ancora sbloccata mentre falla questa classe l'ho usato come di solito la uso per il cecchino però l'ho messo il fall poiché l'ho appena sbloccata cioè l'ho sbloccata un po ma non l'ho mai usata e volevo sbloccare un po di accessori un'arma abbastanza scomoda poiché ha un colpo e sia un danno maggiore comunque non mi ci trovo proprio cioè muoio già muoio di mio però con questo muoio ancora di più muoio un sacco di volte non mi ci trovo allora il video è finito e sono a livello 35 per ora ciao ciao